di capire la provenienza di questo denaro che arrivava appunto, partiva dall'Italia, passava per l'Europa e arrivava appunto in Turchia e anche in Siria. Fondi neri per finanziare il terrorismo internazionale dell'organizzazione radicale islamica Al-Nusra è quanto scoperto dall'inchiesta coordinata e diretta dalla Direzione Distrettuale Antimafia ed Antiterrorismo di L'Aquila e condotta dai carabinieri del ROS e dai finanzieri del GICO che nel mese di marzo avevano già dato esecuzione ad un decreto di perquisizione nei confronti di oltre 20 soggetti dislocati fra Bruzzo, Piemonte, Lombardia e Marche. L'indagine infatti nasce nel 2015 dalla posizione dell'imam di Martinsicuro che aveva espresso frasi antioccidentali basate sull'incitamento al terrorismo. Da lì sono iniziate le indagini dei carabinieri sviluppate a livello nazionale ed internazionale che poi hanno portato alla scoperta della rete terroristica e all'iscrizione nel registro degli indagati di 17 persone all'arresto di 10. Posizioni antioccidentali e di radicalismo islamico da parte di un imam dell'Abruzzo, parlo della moschea di Martinsicuro. Da qui l'indagine che via via si arricchisce di qualificati contatti dell'imam e si arriva al principale indagato di oggi che è un tunisino imprenditore residente a Torino di Morante in Abruzzo. Numerose sono le conversazioni intercettate nelle quali gli indagati parlano dei teatri di combattimento e quindi parlano della Siria e dell'Iraq, fanno riferimento ad una formazione combattentistica al-Nusra molto radicata sul territorio siriano, verso la quale indirizzavano gli aspiranti combattenti. I fondi neri scoperti ammontano ad oltre un milione di euro, tra cui anche appartamenti situati sulla costa abruzzese, acquistati riciclando il denaro provento dei reati, oggetto dell'indagine. Le indagini poi svolte dal Rossi dei Carabinieri hanno fatto nascere il sospetto che queste rimesse possano servire anche a soggetti che si collegati a attività di terrorismo internazionale. Per questo all'indagine e ai reati è stata aggiunta l'aggravante del terrorismo internazionale.